House of Dragon, episodio 7. Quattro matrimonio e un funerale. No, quattro... due funerali e un matrimonio... Mazzoma! Altro che timeskip. Qua continuano a succedere cose! Wabalabadababbe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fantasy, bentornati nella rubrica serie tv. Continuiamo a parlare di House of the Dragon, la serie spin-off e prequel di Game of Thrones, che, devo dire, è molto avvincente, molto sensualità a corte, molto sensualità e sgozzamenti a corte. Si sa che ormai non c'è più buon sangue tra le due famiglie reali, la famiglia del re e la famiglia di sua figlia, la principessa. Perché? Perché la regina Alicent Hightower continua a mandare in giro questa voce fondatissima, ovviamente, ma è comunque una maldicenza che i figli della principessa re nera sono, appunto, dei bastardi. Non che siano delle cattive persone, ma sono, appunto, concepiti fuori dal matrimonio con la stirpe valiriana, perché, appunto, il marito di re nera è attratto dagli uomini e ha, diciamo, un amante segreto, il signor Carl, con la Q. E ogni episodio è sempre peggio, la maretta è sempre più grande e in questo episodio già si tirano le somme di tutti questi dissapori. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un male mi piace, o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che sui Tomalabama, non lo so, si sposano la cugina, e commentate qui sotto con quello che viene parso di questo episodio, di questa serie, qual è il vostro personaggio preferito e qual è quello che odiate. Di più, seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch e TikTok, dove faccio delle mini recensioni. Giusto in questi giorni il buon Kal-El ha esposto, diciamo, una lamentela sul fatto che le persone che stanno seguendo le serie TV ormai non riescono più a seguirle, non hanno più il concetto del gusto dell'attesa, no? E quindi si lamentano se una cosa nel primo episodio non è spiegata fino all'ultimo episodio, perché appunto vogliono tutto subito, un po' questa durata dell'attenzione che è sempre meno probabilmente anche dovuta al fatto alla velocità che ci hanno abituato i nuovi social network, non ci dà più la gioia dell'attesa, ma devo dire che forse questa serie Game of Thrones, scusate Game of Thrones, questa serie House of the Dragons sembra quasi anticipare questo grido di Kal-El, perché in questa serie, rispetto per esempio alla serie madre, ci risolvono, risolvono tra molte virgolette, ci risolvono il tutto nel giro della puntata successiva, dell'episodio successivo. Ora tutti questi dissapori tra le due famiglie in Game of Thrones si sarebbero risolti in otto stagioni probabilmente, qua invece grosso modo in un paio di episodi ci si prende a schiaffi, ci si prende a coltellate, ma si spiattellano subito i propri fattacci a corte, e devo dire che è una cosa diametralmente opposta alla serie madre, ma che io apprezzo molto, è un tipo di narrazione che non mi dispiace affatto, anche perché una narrazione lenta, più ponderata, più misteriosa, me la sto godendo, per esempio, con Rings of Power. Qua mi piace avere questo controaltare. Lo scorso episodio si chiudeva con la morte della seconda moglie di Daemon, lo zio della principessa re nera e fratello minore del re Viserys. Questa volta la morte non è accaduta per mano di Daemon stesso, che vi ricordo è comunque un pezzo di merda, ma che da un paio di puntate sembra mostrarsi più umano ai nostri occhi di spettatore. La morte della sua seconda moglie è dovuta proprio, diciamo è stata una morte di parto, però appunto colorata da questo sacrificio della regina che si è voluta far abbrustolire dal proprio drago. L'altra volta dicevo, ma perché il bambino che è in grembo non è rimasto vivo, dato che ha del sangue Targaryen nelle vene, di conseguenza dovrebbe resistere al fuoco, esattamente come è successo a Daenerys in Game of Thrones? Probabilmente perché appunto il sangue Targaryen non è puro, perché è metà Targaryen e metà Valiriano, e probabilmente solo i Targaryen puri riescono a sopravvivere al fuoco. Questo perché i Targaryen hanno il brutto vizio ufficiale, a differenza appunto dei Lannister che lo fanno sotto banco, hanno il brutto vizio ufficiale di mischiare, o meglio di non mischiare la propria stirpe con altre casate, ma di accoppiarsi, scusate il termine brutto animalesco, accoppiarsi e generare figli tra consanguinei. È proprio una tradizione dei Targaryen, e forse solo un Targaryen puro potrà appunto resistere al fuoco. Quindi tecnicamente anche i figli di Re Viserys, che sono di sangue metà Targaryen e metà degli Hightower, in teoria non dovrebbero resistere al fuoco. Oppure banalmente, proprio senza cervellarci troppo, se hanno i capelli color platino, sono resistenti al fuoco, quindi mi aspetto che anche le figlie valiriane di Daemon invece non sono immuni appunto al fuoco, e quindi rischiano di essere bruciate. L'episodio si apre con un funerale, noi vediamo Renera a Roccia del Drago, o almeno credo siano lì, scusate se dico una stronzata. Sapevamo che sarebbe andata dallo zio con il suo marito e con il servitore Karl, ma in questo caso sono tutti lì per il funerale. Abbiamo anche il re, abbiamo la regina, abbiamo tutti i nipotini o figli che dir si voglia, ed è proprio sui figli, sui bambini, che la puntata è incentrata. A quanto pare hanno tutti fretta di mandare a letto i bambini molto presto, anche se poi è proprio quando i bambini sono da soli che fanno, diciamo, che fanno scattare la molla peggiore di questo episodio, ovvero il famoso secondo genito Aegon, preso in giro dal fratello stesso, che è un coglione fondamentalmente, il fratello più grande è un coglione, non difende il fratellino nemmeno di fronte ai cugini. I cugini, che sono dei bastardi, ma riescono comunque a... sono già riusciti, pur essendo più piccoli di Aegon, a avere il proprio draghetto, il proprio drago, hanno già iniziato ad allevarlo, ad addestrarlo. Aegon purtroppo era l'unico che non aveva ancora un drago, tant'è che lo sbuffeggiavano, lo prendevano in giro per questo. Vuoi anche per questa ragione Aegon si è lanciato a cercare di domare il drago, della scomparsa moglie del principe Daemon. Quindi in barba a tutti gli altri che lo pigliavano per il culo, lui ha un drago adulto enorme e gli altri hanno un draghetto piccolo, e quindi adesso avrà la sua rivincita. Peccato che la sua rivincita l'ha già un attimino assaporata, con tutto questo orgoglio ritrovato, andando ad affrontare appunto i cugini e anche le cugine o le nipoti, che dir si vuole, non so come definire, figli del... insomma... figli... figli... l'ha reclamato lui, quindi è suo. Hanno iniziato una scazzottata che purtroppo è finita in tragedia quando si sono scaldati gli animi, dove appunto è volato anche lì il nome, l'epiteto bastardi verso i figli di Renera, e il figlio più grande di Renera che sa di essere un bastardo ha voluto difendere l'onore della famiglia Targaryen tirando fuori un pugnale, questo pugnale che è andato appunto ad accecare, a sfregiare l'occhio di Aegon. Mi ha ricordato un po' anche molto lo sfregio di Tyrion Lannister in Game of Thrones, anche se lui non ci ha rimesso un occhio, però ecco, questo... questo principino con i capelli color platino, con già un occhio sfregiato, inizia a essere un personaggio sempre più interessante. Io credo che sarà il vero protagonista del finale di questa serie, se avrà più di una stagione. Sembra davvero un re crudele che vedremo più avanti, e mi sta entusiasmando molto, perché iniziare a dare questi tratti caratteristici già da bambino potrebbero farlo diventare un personaggio davvero interessante in futuro. Finalmente Alicent scopre le sue carte, perché la protettività materna fa saltar fuori tutta la sua crudeltà al punto che vuole prendersi un occhio del suo stesso nipote, cosa che fa sconcertare il re Viserys, che finalmente caccia un urlo e azzittisce tutti. Non ne può più di tutte queste stronzate, non vuole più che siano dati epiteti bastardi ai suoi nipoti, e non vuole che continuino a serpeggiare questi dissapori, che è la regina Alicent stessa che ha mandato in giro. Nonostante nessuno lo dica apertamente, è chiaro a tutti che lei, con la sua continua insistenza nel non tollerare i figli, che però sono bastardi, di Renera, ha fatto, in tutti questi anni, ha fatto in modo di sussurrarlo a tutta la corte per vomitare il suo malessere, però così facendo non ha assolutamente fatto nulla di utile per la sua corte, ha semplicemente svuotato un suo malessere interiore andando a fare del male a tutti gli altri. Non c'è assolutamente ragione, se non egoistica, per cui Alicent si sia comportata in questo modo. Può avere ragione sulla carta? Sì, può avere ragione sulla carta, ma il fatto che abbia fatto star male tutti gli altri per questa sua maldicenza rende lei la vera villain di questo episodio e probabilmente della prima stagione. Nonostante queste maldicenze siano state placate, quello che invece cambierà per sempre sono appunto i rapporti tra Re Viserys e la regina Hightower, che ora non si parlano più, un altro matrimonio dove le persone sono separate in casa, e molto probabilmente io credo che Alicent Hightower trami per ammazzare il re a questo punto, facendosi aiutare dal servitore storpio, il fratello del vero padre dei figli di Renera, quindi tecnicamente il vero zio dei figli bastardi di Renera che sta aiutando segretamente la regina. Io credo che in qualche modo vogliono togliere di mezzo Viserys prima del tempo, poraccio. Per quanto riguarda invece Renera, che appunto già voleva stare a Roccia del Drago, non ne può più di queste maldicenze che anche se il re le ha volute placare sa che continueranno, vuole rinforzare la sua stirpe sposandosi finalmente con Daemon, che ormai è tornato single, seppur vedovo. Però lei è ancora sposata, di conseguenza attua un piano fantastico in una messa in scena registica che io ho adorato. Non è una cosa nuova, l'ho vista in altre trasposizioni, in altri film, ma è sempre bella quando la vedo, ovvero quando due stanno escogitando un piano e mentre lo raccontano noi lo vediamo già in atto in un susseguirsi di scene. È una cosa che io adoro. Piuttosto che loro lo spieghino in modo spiattellato e poi lo vediamo, sarebbe ridondante. Invece in questo modo è molto molto più bello visivamente. Fondamentalmente hanno fatto in modo di togliere di mezzo il marito di Renera, ma sono stato davvero molto molto felice che non sia morto davvero. Non ho ben capito se il piano di Daemon fin dall'inizio era di non eliminarlo davvero, perché comunque Renera non trovava suo marito un bravuomo, un uomo raro da trovare in giro. Quindi vedo strano che Renera volesse davvero la morte di suo marito. Anzi, io credo che volesse liberarlo, volesse finalmente vederlo felice con il suo compagno Karl dandogli un sacco di soldi e facendogli scappare. In questo modo Karl e il marito di Renera sono riusciti ad andarsene appunto su un'isola lontana godendosi la pensione che gli ha dato Daemon e inscenando una morte. Sono stati molto forbi appunto a inscenare un attacco vicino a un cammino in modo che appunto il corpo venisse bruciato e non potesse essere riconosciuto nemmeno dalla famiglia. In questo modo non è stato davvero ucciso ma tecnicamente Renera si può risposare. Cosa che già vediamo! Abbiamo già visto anche il matrimonio Targaryen tra Daemon e Renera. Finalmente. Ce l'avevano fatto annusare fin dall'inizio. Finalmente lo abbiamo visto e ora vedremo questa nuova casata Targaryen rinforzata di un sangue puro tra molte virgolette nel senso che non ha contaminazioni di altre famiglie ma vabbè. La cosa che però mi stupisce è che non ci hanno mostrato le conseguenze del matrimonio. È ovvio che le vedremo più avanti ma io intendo dire loro si sono sposati ma sono curioso di sapere cosa ne pensa Reviseris cosa ne pensa la regina Hightower sicuramente lo vedremo nei prossimi episodi ma mi sarebbe piaciuto vedere una loro reazione a caldo. vediamo che è un matrimonio in cui sono solo loro e i bimbi e i figlioletti quindi non sono stati invitati gli altri o magari semplicemente non sono venuti perché ritengono la cosa non lo so disdicevole nonostante appunto sia tradizione nella nella cultura dei Targaryen. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo episodio io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.